Allora, nel 2013 il World Economic Forum di Klaus Schwab ha ufficialmente annunciato al che rischiano di far crollare il loro sistema, vi era la scoperta di vita extraterrestre, quindi già l'ha detto il mondo dell'economia che è quello che comanda l'intero pianeta, poi il 10 dicembre 2021 il Financial Times, che tu sai benissimo essere uno dei maggiori giornali autorevoli in termini finanziari, ha pubblicato un articolo che dice questo, la scoperta di vita extraterrestre è più pericolosa per i fondi di investimento sia di tutto quello che ha rappresentato la pandemia e addirittura di uno scontro tra Oriente e Occidente, quindi all'apice dei pericoli per il sistema c'è la visita extraterrestre e quindi non la diranno mai per quello che è, perché significherebbe che loro devono rinunciare alle loro poltrone, alle loro ricchezze, non lo faranno mai, piuttosto distruggeranno l'umanità che è quello di fatto che hanno iniziato. Infatti in questi ultimi due anni abbiamo visto come sia facile per il mainstream e per tutta la propaganda mossa dal sistema, il creare ad arte un nemico, sia esso visibile che invisibile, per condizionare massivamente la popolazione umana, dai militari sappiamo peraltro che in varie circostanze questi oggetti volanti hanno sorvolato basi missilistiche, disattivato ordini nucleari o persino distrutti. Abbiamo quindi visto poc'anzi che c'è una possibilità che vogliono creare un nuovo nemico, un capro espiatorio contro cui combattere e per loro interessi malevoli, quindi è bene sgombrare il campo da facili entusiasmi. Ti dirò di più, possiamo dire che l'evento di Armageddon citato in Apocalisse sia proprio conseguenza di una dichiarazione di guerra aperta degli umani ai popoli del cielo? No, assolutamente. Non esiste una guerra tra tutti gli eserciti del mondo e l'esercito cosmico, non inizia nemmeno. Questi esseri hanno la capacità, persino i loro computer, di entrare nei cervelli di tutti gli abitanti del pianeta senza sporcarsi le mani, quindi con le astronavi parcheggiate in orbita terrestre o sulla Luna e farci suicidare tutti. Quindi non c'è guerra con gli extraterrestri. C'è una guerra… Infatti nelle scritture, Pier Giorgio, nelle scritture è riportato, e questo è un punto importante da porre in evidenza, che in realtà non è intesa come dichiarazione di guerra di un evento che, come sta avvenendo in Ucraina adesso, tra guerre a lungo termine, a lunga scadenza. No, no, questa è una situazione che si consume in pochi istanti, in pochi secondi. È scritto chiaramente in Apocalisse che alla manifestazione di Cristo con le legioni celesti gli eserciti che si saranno radunati in Armageddon saranno spazzati via in pochissimi secondi. Questa è la realtà. Certo, sì sì, ma la guerra contro l'esercito celeste va avanti da 70 anni. È una guerra per occultare al mondo la verità. È anche una guerra guerreggiata, perché comunque si è cercato di abbattere dei dischi volanti che sono anche attaccati. Per quello che so io, almeno in qualche occasione ci sono riusciti, ma si parlava di dischi volanti di civiltà abbastanza simili alla nostra, quindi non stiamo parlando delle civiltà più evolute. So che questo l'hanno fatto sia gli americani che i sovietici. Sono riusciti ad abbattere dei dischi volanti. So anche che stanno costruendo armi molto più sofisticate e moderne, con l'idea folle di scatenare una guerra contro questi personaggi. Ma è una guerra che dura veramente un battito di ciglia. Quindi non c'è nessuna zero, anzi direi meno zero possibilità che si possa in qualche modo dare un vero fastidio a questa potenza che viene dal cosmo. C'è una guerra alla verità. C'è una guerra per la conquista delle anime, perché tutto questo di cui noi stiamo parlando, Massimo, tu sai benissimo essere una guerra spirituale, dove Satana lotta per conquistare le anime degli uomini e gli angeli lottano per la stessa cosa. Quindi il campo di battaglia, prima di essere un luogo fisico di scontro belligerante, il vero campo di battaglia è l'umanità della Terra, dove le potenze dell'inferno e le potenze del cielo si contendono lo spirito degli uomini. Quindi la preda siamo noi. I demoni vogliono lo spirito dell'uomo perché così si purificano. Gli angeli vogliono lo spirito dell'uomo così l'essere umano si salva. Ma di fatto questo giochino serve a Dio per separare il grano dalla gramigna. Dio non ha nemici, è onnipotente e quindi usa lo strumento negativo di tentazione e lo strumento positivo di ispirazione per dividere l'umanità, per setacciarla, per purificare l'umanità, mettere in salvo il grano e bruciare la gramigna nella genna, come dice la scrittura. Quindi il vero processo in atto è questo perché tutta questa storia geopolitica, climatica eccetera eccetera non è altro che uno scenario dove il protagonista è il padre, il cui progetto è il regno. Venite benedetti dal padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Ora, essendo Dio onnipotente, nessuno può vincerlo e quindi il progetto del regno o sì o sì si farà e lui usa indifferentemente i due strumenti, quello positivo e quello negativo, per polarizzare l'umanità.